Grazie a tutti. 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 Per fortuna sono partiti tutti. Questa qui cosa c'ha in testa? Il turbante. No, quella davanti, amore. Ah, ok. Ci sono tutti questi personaggi strani. Qua è la gente con roba che costa. E poi che è andata a Marina di Massa? Come fate ad andare a Marina di Massa? Oh, Marina di Carara, ma venite qua. Vi trovate una ragazzuccia bellina, carina, da mare, milionaria. Avete sbancato, basta, non lavorate più, stop al lavoro. Oppure trovate un ragazzino, quel dio. Guarda, le principesse arabe, ora mi sono. Cioè, le principesse arabe, cioè, arabi... Nonna principesse, volevo dire sceicchi, tipo. Infatti Franco ha detto che era pieno di arabi.